E per favoreggiamento all'immigrazione clandestina 20 miglia sono state fermate 16 persone dalla redazione di Genova, Antonio Zagarese. L'hanno chiamata Pantografo, l'operazione di polizia contro un'organizzazione criminale che lucrava sul traffico di esseri umani, possibile e responsabile anche della morte di alcuni migranti, 13 fermi per favoreggiamento dell'immigrazione in tutto, 16. Le ordinanze, alcuni sono stati eseguiti dalla polizia nella tendopoli vicino al fiume Roia, 20 miglia, dove i presunti aguzzini originari della costa d'Avorio, della Guinea e del Mali dormivano. Il rischio di morire folgorati sulla linea elettrica della ferrovia costava 30 euro, fino a 200 arrivavano a chiederne i passeurs per persone disperate per il viaggio, nascosti nelle toilette, sui pantografi dei treni per Nizza appunto o nei vani tecnici. Varcare il confine di 20 miglia al costo della propria vita, almeno una ventina i casi contestati dalla procura di Imperia, un anno di indagini pedinamente intercettazioni in lavoro congiunto con la polizia e la magistratura francese ha permesso quindi di sgominare l'organizzazione e la logica di questo business. È tutto, linea allo studio.